Salve a tutti e ben ritrovati. Era un po' di tempo che non ci sentivamo, ho avuto una pausa estiva tra vacanze e altri impegni personali, ma adesso si torna a fare sul serio, si torna nuovamente insieme a chiacchierare di finanza, a cercare di scambiarci opinioni, a fare educazione finanziaria e quindi vi ringrazio anche per i numerosi messaggi anche privati che mi avete mandato stimolandomi a ripartire subito con questi contenuti e vi riporto anche poi contenuti che quotidianamente riporto sul Sole24, trovate il link in descrizione dove poi vado ad approfondire, come ben sapete, questi altri argomenti. Tra l'altro domani, mercoledì, riparte il podcast Crypto, una nuova puntata, riparte la terza stagione e quindi vi invito ad ascoltarlo perché sarà un podcast importante anche partendo da Bitcoin, dalle criptovalute, ma molto molto anche realizzato per investitori anche di mercati tradizionali, visto che c'è una forte correlazione tra Bitcoin e i mercati tradizionali e la macroeconomia, i scenari macroeconomici, eccetera, eccetera, quindi questo podcast in realtà è pensato anche per chi investe nei mercati tradizionali, oltre alla conoscenza delle criptovalute, ma proprio con le relazioni, anche per quello che accade appunto sui mercati tradizionali. Ecco, oggi, visto che è un po' di tempo che non ci sentiamo, tra l'altro il posto in cui sono stato in vacanza, dove avevo portato anche un po' di attrezzatura basic per fare qualche video di raccordo, aveva una pessima connessione, quindi anche per questo motivo non mi sono fatto sentire per queste settimane. Comunque, in questo momento, dato che è un po' che non ci sentiamo, andiamo a fare qualche ripilogo. Ci sono degli indicatori che seguiamo da tempo sull'eventuale ipotesi di recessione. Andiamo a vederli un po' e se sono effettivamente scattati. Allora, il differenziale tra la curva 10-2 anni, rendimenti a 10 anni e 2 anni, dopo 27 mesi di inversione, dal luglio del 2022, si è proprio in queste ultime sedute disinvertito. Ben sappiamo che questo indicatore ha avuto in passato, e quindi andiamo a ampliare il range, una valenza previsionale sulle potenziali future recessioni, non tanto quando si inverte, ma soprattutto il conto alla rovescia finale per l'arrivo di una recessione, e quando questo indicatore si disinverte, ovvero quando i rendimenti a 10 anni tornano, come deve essere da manuale, a essere più alti dei rendimenti a 2 anni, che appunto hanno un premio temporale a rischio inferiore, quindi devono rendere in condizioni normali meno. Ma questa normalizzazione, che sta avvenendo in modalità bull-stepening, cioè vengono comprate le obbligazioni, ma vengono comprate di più quelle a breve termine, che accendono maggiormente i rendimenti a 2 anni di quelle a 10 anni, è una notizia non proprio buona statisticamente parlando, perché in passato spesso è segnalato, poi dopo l'arrivo di qualche mese, l'arrivo di una recessione contrassegnata dalle fasce grigie negli Stati Uniti. Quindi questo primo indicatore, diciamo, non è un grande, dal punto di vista macro, fa accendere una spia sulla possibile contrazione dell'economia americana. Poi c'è la Sam Rule, Claudia Sam, l'economista che ha elaborato questo indicatore, e che un po' indica la velocità con cui aumenta il tasso di disoccupazione. E quando cresce appunto la sua media mobile a tre mesi, cresce oltre lo 0,5 rispetto al minimo degli ultimi 12 mesi, per essere un po' tecnici, in passato anche questo indicatore ha fatto, il superamento di questa soglia ha fatto innescare la fascia grigia. Adesso siamo a 0,57. E nonostante nell'ultimo mese il tasso di disoccupazione sia leggermente migliorato, dal 4,3 al 4,2%, però è ancora in piedi la spia dell'allarme della Sam Rule. E poi c'è un altro indicatore che monitoriamo spesso, è il rendimento dei titoli obbligazionari high yield, quelli che hanno un rating, un livello di solvibilità inferiore rispetto agli investment grade, di quelli che hanno un rischio minore, quindi hanno un rating più elevato. La differenza tra high yield e quelli sostanzialmente a basso rischio in questo momento è al 3,39% e sta risalendo, sta risalendo perché eravamo al 3%. Non siamo in un'accelerazione importante, vedete che quando questo spread aumenta tendenzialmente ci sono bear market, recessioni, eccetera, eccetera. Quando il trend è ribassista abbiamo assistito in passato a mercati risk on, quindi delle spiegate per le classi di rischio. Adesso sta un po' risalendo, quindi anche questo indicatore non è positivo. Per capire sostanzialmente anche qui la velocità del deterioramento di questo tasso si prende sul lato settimanale lo spread tra i rendimenti a tre mesi negli Stati Uniti è appunto quell'indicatore di prima, cioè lo spread tra le obbligazioni high yield e quelle investment grade e si va a vedere se c'è un deterioramento e qui abbiamo in effetti siamo andati sotto la media 100 settimane in passato anche qui quando questo indicatore è andato sotto la linea verde dopo poi è arrivata dopo un po' la fascia grigia della recessione. Ovviamente il mondo, l'economia e la finanza è piena di variabili e che è complicato semplicemente dire ok ci sono questi tre indicatori che ci stanno dicendo che il rischio di recessione è aumentato e quindi arriverà certamente l'hard lending negli Stati Uniti. Non è così perché ci sono tante variabili in gioco in questo momento c'è il doping fiscale degli Stati Uniti che stanno facendo deficit come se non ci fosse un domani come se ci fosse una guerra mondiale e quindi questo è un elemento di novità che è falsa rischia di appunto falsare un'analisi classica e poi c'è anche da mettere in discussione il tema della liquidità la liquidità delle banche centrali le banche centrali e non solo anche quelli dei governi ultimamente negli ultimi anni si sta cambiando pelle cioè se prima agivano soltanto per curare adesso stanno imparando ad agire anche in modo preventivo e quindi queste sono le due cartucce tra virgolette che potrebbero far ben sperare gli ottimisti sul fatto che nonostante questi indicatori stiano segnalando una possibile aumento di probabilità di recessione negli Stati Uniti nei prossimi mesi comunque non è detto che ciò accada andiamo con gli indicatori il ratio di cui abbiamo parlato nel corso di questi ultimi mesi ogni tanto in questi video di raccordo tra XLP e XLY i consumi di base e i consumi discrezionali quando questo ratio si rafforza gli investitori comprano più i titoli difensivi come i consumi di base rispetto a titoli più ciclici più aggressivi tra virgolette come i consumi discrezionali vuol dire che ci si difende che gli investitori del mercato azionario hanno un po' più paura e quindi comprano più titoli difensivi e quindi questo ratio si rafforza vediamo che da metà luglio dal massimo dei mercati fondamentalmente di metà luglio attualmente c'è questo rafforzamento di questo ratio che è molto interessante analizzare la pendenza vedete che in passato questo ratio ci fa capire anche un po' quello che pensa mister market cerca di scontare quando sale velocemente vuol dire che il mercato aumenta la preoccupazione di recessione di hard landing così come quando scende si distende la preoccupazione diminuisce e si va più su un soft landing e poi abbiamo avuto un altro momento da hard landing un altro momento da soft landing poi abbiamo avuto questo higher for longer questo range higher for longer contrassegnato dall'ipotesi di no landing goldilocks economic quello scenario perfetto in cui nonostante i tassi siano moderatamente alti l'economia riesce a crescere bene e l'inflazione a rallentare il passo adesso però siamo un po' usciti da questo trading range e appunto vedremo se appunto ci sarà questo questo movimento ulteriore verso una preoccupazione di recessione se guardiamo il mercato dei bond lato tassi e quindi ci spostiamo ai futures sui tassi americani e vediamo che da qui a dicembre 2025 il mercato sconta 250 punti base di taglio ovvero 10 tagli da 25 punti base e dal 1990 non era mai successo che nell'arco dei successivi 24 mesi il mercato scontasse così tanti tagli quindi se guardiamo il mercato obbligazionario è un po' più focalizzato sull'hard lending che non nel soft lending perché quando sconta tanti tagli vuol dire che sconta uno scenario in cui c'è bisogno che la banca centrale vada a sostenere l'economia in modo aggressivo tagliando rapidamente di 10 volte nel corso di 2 anni i tassi di interesse quindi anche il mercato dei bond è un po' concentrato sta aumentando diciamo così le probabilità le fish di un potenziale hard lending e quindi il mercato in questo momento è molto molto combattuto tra soft lending che è lo scenario a cui tutti aspiriamo e speriamo che accada e hard lending ci sono vari indicatori e ve li ho messi qui uno alla volta tutti in fila che indicherò che tanto il mercato obbligazionario in parte anche il mercato azionario anche se è ancora vicino ai massimi nonostante l'attuale correzione partita a settembre eccetera eccetera e poi anche appunto quegli indicatori di cui abbiamo parlato hanno acceso stanno accendendo la spia di un potenziale rallentamento più marcato dell'economia ma questo non si vede ancora in modo importante sul mercato azionario nonostante i consumi di base stiano sovraperformando i discrezionali perché i multipli sono ancora molto alti l'S&P 500 e i multipli attuali quota quasi 20-21 volte gli utili attesi un multiplo in passato non compatibile con uno scenario di recessione dove i multipli diventano meno generosi il mercato del lavoro avevo preparato qualche dato sul mercato del lavoro che si sta un po' deteriorando c'è questo dato che potete trovare sul sito BLS direttamente negli Stati Uniti il numero delle unemployed persons cioè disoccupati rispetto ai posti liberi e questo numero sta crescendo vuol dire che fondamentalmente l'offerta di lavoro inizia a farsi meno florida meno ricca quindi questo dato va monitorato vedete che quando c'è stato il picco del covid è arrivato questo ratio a 5 adesso siamo in crescita siamo quasi tornati a 1 un altro ratio da considerare la prossima settimana la Federal Reserve deciderà sui tassi il mercato è abbastanza combattuto perché di solito si arriva a ridosso con percentuali molto più forti c'è un 90 un 95% su uno scenario qui abbiamo ancora 27,73 cioè il 27% degli investitori lato il posizionamento ipotizza che la Fed possa fare un taglio da 50 punti base anziché da 25 punti base come è più probabile secondo la maggior parte degli operatori un taglio da 50 punti base sarebbe un taglio recessivo perché chiaramente ricollegandoci al discorso precedente più si taglia più velocemente più diciamo l'azione è vista non tanto preventiva ma come curativa di un male già presente già presente e mentre se si taglia lentamente si va verso più il soft landing però benché appunto il mercato pensi al 73% che quello di settembre del 18 settembre da parte della Fed sarà un taglio da soft landing non da 50 punti basse ma da appena 25 quindi un taglio non allarmato da parte della banca centrale se guardiamo come abbiamo visto i tagli complessivi attesi dal mercato da qui a fine 2025 fondamentalmente abbiamo uno scenario un po' più allarmato perché 10 tagli in 5 trimestri quelli che ci separano da qui a fine 2025 sono abbastanza non sono non sono pochini chiuderei questo video in cui ci salutiamo con questi grafici con questi raccordi e soprattutto poi appunto fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente con il cambio da guardare tutte le mattine come primo grafico anche di notte ormai dollaro yen o yen dollaro se ovviamente guardiamo lato dollaro vediamo che questo cambio si sta indebolendo in modo importante e siamo tornati praticamente sui livelli del 5 agosto quando ci fu il crack giornaliero della borsa di Tokyo con impatti anche sulle altre borse siamo arrivati nei giorni scorsi sugli stessi livelli e poi questo cambio ha rimbalzato però diciamo che è importante che tenga questi livelli perché poi dal punto di vista tecnico potrebbe essere problematico e sappiamo che se lo yen continua a rafforzarsi nei confronti del dollaro c'è il rischio che riparta a un winding di una chiusura forzata di posizioni di carry trade aperte ricordo che il carry trade in questo caso giapponese è quella quella operazione con cui ci si indebita in una valuta dove i tassi sono bassi in Giappone i tassi sono storicamente bassi tra lo 0 e l'1% da tanto tempo quindi ci si indebita in yen pagando pochi interessi in yen per poi andare a investire questi soldi in altri posti magari le azioni tecnologiche americane magari i titoli di stato americane titoli che rendono di più ovviamente c'è poi il discorso del cambio e finché la valuta in cui ci si indebita non si rafforza nei confronti dell'altra valuta dove abbiamo poi investito in questo caso in questi esempi il dollaro il gioco è interessante ma poi se dovesse rafforzarsi e vedete qui lo yen è salito tanto da metà luglio ad oggi nei confronti del dollaro andiamo a calcolarlo insieme quando appunto questa valuta si rivaluta è evidente che ci costa di più rimborsare il debito che dobbiamo sempre rimborsare in questo caso in yen qui abbiamo avuto quasi un 15% di rivalutazione dello yen sul dollaro in così poco tempo e quindi è accaduto proprio questo questa chiusura forzata di operazione di carry trade poi quando si chiude in modo forzato chiaramente si chiude perché si deve chiudere quindi non si vede neanche il prezzo magari c'è la margin call e quindi bisogna chiudere l'operazione a qualsiasi prezzo perché si parte di cercare di si perde il margine per mantenere aperta la posizione e quindi in quel caso aumenta la volatilità eccetera eccetera quindi il cambio da dollaro iene che anche oggi sta salendo leggermente e da monitorare perché siamo tra l'altro su soglie tecniche importanti da non perdere eventualmente siamo in una fase di stagionalità abbastanza avversa settembre è un mese di siccità finanziaria è un mese di siccità della liquidità e approfondirò questo tema in un prossimo video per non essere troppo lunghi in questo e quindi anche al di là di tutti gli altri ragionamenti recessione non recessione eccetera eccetera settembre manca proprio la benzina per sostenere una forte spinta del riscon per motivi tecnici idraulici del mercato e quindi questo è molto importante a proposito di Nikkei di Tokyo e di Yem segnalo che l'indice VIX della borsa del Giappone quindi l'alter ego del VIX del Nikkei è a 28 punti ed è comunque alto nonostante il recente recupero del listino quindi chiaramente quando c'è stato il 5 agosto è arrivato a 70 punti poi è sceso ma adesso siamo a 28 punti quindi proprio normale questo indice proprio una condizione normale questo indice non la sta fotografando è ancora piuttosto teso a 28 a 28 punti anche il VIX quello di Wall Street è intorno ai 20 punti che è proprio la soia che separa un mercato nervoso da un mercato più tranquillo quindi non siamo ancora rientrati in una situazione di piena tranquillità mentre gli indicatori quelli macroeconomici quelli finanziari che però si appoggiano alla macroeconomia ci stanno dicendo che stanno crescendo chissà quando avverrà però però stanno aumentando le probabilità di una futura recessione negli Stati Uniti posto che ripeto ogni volta la storia fa rima ma in modo anche diverso e quindi qui c'è da considerare ci sono da considerare altri fattori però teniamo d'occhio il deterioramento in corso del mercato del lavoro negli Stati Uniti e anche appunto tutto quello che ci dicono anche le altre variabili tecniche a partire dal cambio dollaro yen e soprattutto bentornati a tutti fatemi sapere nei commenti e magari con un like se vi fa piacere e appunto se siete contenti del mio ritorno qui a cercare di stare insieme a fare un po' di educazione finanziaria a commentare grafici non dare ovviamente nessuna indicazione operativa e alla prossima molto molto presto ciao a tutti